Ciao ragazzi, purtroppo oggi è stata una giornata veramente pesante, piove interlottamente stamattina, ci siamo presi più acqua oggi in tutti i 45 giorni di cammino, purtroppo non possiamo nemmeno fermarci, poiché siamo in aperta campagna, adesso ci sta dando un po' di tregua, però da come vedete oggi siamo stati veramente molto molto bagnati, dovremo fare altri 10 chilometri per arrivare al campeggio e gli ultimi chilometri sono infiniti, come vedete anche sullo sterrato. Va bene, noi continuiamo, a dopo, ciao! Ciao!